La tecnologia dovrebbe essere accessibile a tutti ed è per questo che ho scelto di provare il Brondi Amico Smartphone Plus che è uno degli smartphone per, diciamo, anziani, per semplificare, più venduti in Italia. Su Amazon è costantemente il più venduto, ha un prezzo molto accessibile, per questo è molto interessante. L'ho acquistato, l'ho provato un pochino per dirvi se questo è lo smartphone giusto, per chi soprattutto, per chi questo è lo smartphone giusto. Se vi piace questo tipo di contenuti, un contenuto magari un po' diverso dalla solita recensione del Super Flagship da 1500€, potete supportarci iscrivendovi al nostro canale e attivando la campanella delle notifiche. Iniziamo con l'unboxing, lo smartphone è già qui fuori e aprendo questa scatolina in cartone c'è più di quello che vi potreste immaginare. Intanto lo smartphone e la batteria separatamente e quindi avete già capito una delle caratteristiche principali. Abbiamo poi questo che è un mini 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 adattatore da 3W addirittura a 5V 600mAh, quindi 0,6A, 3W, uno degli alimentatori più lenti della storia, ma poi capirete non è una grossa peculiarità. Ho levato uno degli accessori più particolari, ma intanto vado un attimo avanti. C'è il cavo USB micro USB, un paio di cuffie stereo con il jack audio, la manualistica che è comunque un pochino più completa del solito, quantomeno ci sono un po' di indicazioni anche se queste le dovrà leggere qualcuno che non ha problemi di vista perché sono scritte personalmente un po' piccoline. Curiosità delle curiosità, c'è anche un laccetto, c'è anche un laccetto brondi azzurro perché? Perché questo smartphone ha qui sul fianco il foro per far passare appunto il laccetto. Ma quanto era bello il periodo in cui tutti i telefoni, quelli più economici e quelli più costosi, avevano il foro per un laccetto. Non so se oggi qualcuno lo userebbe più così con costanza, ma era una caratteristica nostalgica. Ho tirato fuori un accessorio che non vi ho ancora fatto vedere, che è questa, che è una basetta di ricarica con porta micro usb qui sul retro, che è molto comoda perché c'è un led davanti, ci sono dei pin dentro, fate scivolare, fate inserire lo smartphone dentro e lui va in carica. Tra l'altro c'è un blocco qui davanti, quindi vedete che non si ribalta, ovviamente se io poi arrivo ad angolazioni esagerate si sgancerà, ma comunque è abbastanza stabile, quindi una volta che l'avete messo si può prendere e levare senza grossi problemi, lo smartphone va automaticamente nella sua posizione e trovo che si ha una bella idea, molto meglio del prendere il caricatore, cercare di infilarlo qui, lo si mette al contrario, si spacca il connettore, molto meglio così. Lo si prepara una volta e poi lo smartphone va in carica, agganciandola a questa basetta. Non perdiamoci in altre parole e andiamo a scoprire lo smartphone. Eccolo qua, quindi il nostro Brondi amico smartphone Plus, poi vi dirò, c'è anche una terza versione oltre alla standard della Plus che poi vi dirò appunto che è quella che vi consiglierei. Solvertiamo un po' le regole di questa recensione, andiamo un po' con degli ordini diversi. Le dimensioni sono 151,69 x 10,75 e è interamente realizzato in plastica leggera. Trattiene tanto le impronte, si sporca facilmente, vabbè, è qualcosa che davvero importa in uno smartphone del genere, no, che si sporchi no, che sia resistente sì però. Personalmente non mi sembra una plastica esageratamente resistente. La cosa buona è che come vedete gli angoli sono rinforzati con una parte in plastica zigrinata più spessa e che esce appunto dalla scocca proprio per proteggere lo smartphone da eventuali cadute, questa mi sembra un'ottima idea. Lo vado a ribloccare. La scocca posteriore ha qui un foro per lo speaker, qua c'è invece un foro per l'unghia per poter rimuovere la cover che come vedete è ben salda sul retro. Doppio slot nano sim, io ora la sim l'ho levata perché avevo necessità di rimetterla in un altro smartphone e qui abbiamo la micro sd. La batteria come vi dicevo è removibile, la batteria poi vi dirò è un po' piccolina ma il vantaggio è che essendo removibile la longevità è sicuramente garantita da questo punto di vista perché si può ricomprare la batteria senza ricomprare lo smartphone quando questa non dovesse più durare come ci si aspetta. Mi allontano un pochino. Tasto di accensione, tasti del volume, sono forse un po' piatti ma sono grandi e ben raggiungibili. Questo non è un tasto, è solo un altro rinforzo. Sul lato, quindi non ho chiuso correttamente, sul lato sinistro abbiamo uno switch per il flash. Quindi voi fate così e lui accende questa torcia, anzi neanche il flash. Devo essere sincero, non è neanche così potente, lo vedete da voi. Mi serviva l'altro giorno per cambiare un pezzo del computer e alla fine sono dovuto ricorrere alla torcia di un iPhone che avevo nei paraggi perché questo non riusciva a illuminare quasi nulla. Quindi proprio proprio in emergenza ma non riesce a illuminare molto davanti a sé, soprattutto in spazi ampi. Porta micro sd, jack audio da 3,5 e sotto abbiamo questi fori dove c'è un connettore per la base che avete visto prima durante l'unboxing. Frontalmente abbiamo tre tasti fisici che sembrano essere meno e più. All'inizio pensavo fossero i tasti del volume. No, è un po' come se fossero il tasto verde e il tasto rosso della cornetta telefonica. Veramente vi domando perché non farlo verde e rosso perché magari per una persona anziana che è abituata l'ha già visto altre volte da altre parti potrebbe essere assolutamente comprensibile. Poi è un po' il principio del semaforo. E poi il tasto SOS, anche questo forse è di un altro colore, magari bianco e rosso sarebbe stato ancora meglio. Ma poi arriverò alle funzioni di questi tasti. Vi parlo delle specifiche hardware, tra l'altro molte sono scritte qui sulla confezione. Abbiamo un processore quad core da 1.3 gigahertz, 512 megabyte di RAM, 4 gigabyte di memoria interna. Purtroppo solo uno e mezzo disponibile all'utente e questa è un po' una noia soprattutto perché app come WhatsApp per esempio salvano i propri media direttamente nel telefono. La memoria è espandibile con micro sd fino a 64 gigabyte. È un dual sim 3G. È per questo che personalmente vi consiglio, ve lo dico subito, di pensare alla versione 4G. Perché? Non perché vi serva davvero il 4G ma perché alcune aziende, Vodafone in primis, sta disabilitando definitivamente la rete 3G. Poi certo può funzionare in 2G ma allora poi WhatsApp eccetera eccetera diventa tutto inutile. Fotocamere, visto che parliamo di hardware, 5 megapixel e 2 megapixel frontale. Appena sufficiente la principale, un po' insufficiente quella frontale. Io forse l'avrei invertite perché è ok fare le foto al nipotino, però forse è ancora meglio avere una fotocamera migliore davanti per potersi fare una videochiamata. No, perché comunque voglio dire se io non vedo bene magari e voglio che le altre persone magari mi vedano bene a mia volta perché poi è importante anche vedersi all'interno dello schermo per capire se sta davvero riprendendo quello che si vuole. Insomma ho fatto qualche videochiamata con WhatsApp e forse avrei preferito una fotocamera migliore davanti. Poi vi farò vedere sul sito qualche foto che ho scattato. Ma cosa fa? Come funziona questo smartphone? Perché è pensato almeno dal punto di vista software per gli anziani o per chi magari ha qualche deficit o per chi magari ci vede poco? Perché? Perché c'ha questa interfaccia personalizzata da brondi. La vedete con questi tastoni. Allora, come dire, ho un'impressione media. Poi non sono io l'utilizzatore adatto di questo prodotto ma ho cercato di immedesimarmi. Ho pensato per esempio, non so, a mia nonna anziana per capire se questo prodotto potrebbe andare bene per lei. Secondo me no, perché comunque è troppo complesso. Ok, ok, ci sono i tastoni grossi ma poi una volta che l'applicazione l'aprite, oltre al fatto che è touch e non tutte le persone anziane sanno fare correttamente questo swipe. Io già mi vedo che cercando di fare swipe premono troppo forte o magari aprono l'applicazione. Ma poi soprattutto superato questo layer, questo strato, le applicazioni sono quelle classiche di Android. semplicemente con l'impostazione del font grande. Allora, intanto ditemi voi se questo orario quassù è leggibile per una persona che magari ci vede poco. E poi tutte le opzioni sono piccoline. La tastiera è grande ma non è enorme. Ma soprattutto le impostazioni. Cioè se noi andiamo in queste impostazioni sono grandi perché l'impostazione Android è messa grande ma non è chiaro, non è semplificato. Ci sono un sacco di trappole. Pensate a questi menu che secondo me andrebbero nascosti, magari sotto password. Perché? Perché una persona che inavvertitamente dovesse tirare giù la tenda delle notifiche con queste scrittine tutte piccole, qui si troverebbe davanti a una pletorea di opzioni che potrebbero fare un grandissimo danno. Persone che potrebbero per errore accendere la torcia, non sapere più come spegnerla, disabilitare i dati, disabilitare il wifi, cambiare la luminosità per errore e non riuscire più ad aumentare la modalità aereo. Insomma, Brondi ha fatto quello che poteva sulla schermata principale e anche in altri menu, ma si poteva fare qualcosa in più. Forse Android non è la piattaforma adatta per fare tutto ciò, non lo so, non ve lo so dire. Anche perché non credo che Brondi abbia il permesso di disabilitare la tenda delle notifiche. O forse sì in realtà, perché questo è Android AOSP, quindi in teoria forse possono fare anche questo, possono ridisegnare anche questo. Sì, probabilmente lo possono fare perché altri dispositivi embedd spesso sono così. Vabbè, insomma, ci sono troppe trappole. Pensate a una persona anziana che preme questo tasto e si trova qui, che non sa che cosa sta guardando. Insomma, non lo so, ci sono delle cose interessanti, ma anche delle cose che mi convincono meno. Guardiamo queste app preinstallate. Queste sono le app preinstallate. Abbiamo Skype, abbiamo WhatsApp, abbiamo le radio tramite internet, abbiamo anche le radio tramite radio FM, ma ci vogliono le cuffie che abbiamo visto sono in confezione. Fotocamera, che è quella standard di Mediatek. Tra l'altro con i controlli a sinistra, non so perché, che è un po' scomodo perché quando voi fate così con la mano tappate le fotocamere, quindi dovete tenerlo per forza così. Vabbè, l'interfaccia è quella abbastanza standard, scatta un po' piano, come tempi, la galleria per le foto, la galleria per i video, il file manager, la radio FM che vi dicevo, la musica, il browser, l'app per i contatti di Brondi, calcolatrice, orologio, calendario, registratore Sony, download e Meteo Italia. Qui abbiamo Telegram perché? Perché l'ho installato io. Vedete, mi è arrivata anche una notifica di Telegram. Adesso vado a cancellarla. E come l'ho installata? Non tramite il Play Store perché non c'è, non c'è nessuno store di applicazioni, ma ecco qua, era rimasto tra l'altro aperto qua su l'ultima volta tramite il browser. Quindi voi andate ad aprire un sito che contiene una pick-up e lo installate. Forse ci sta che non sono sicuro di questa opzione che manca il Play Store. Magari sarebbe stato comodo avere il Play Store, ma magari inibirlo per chi poi utilizzerà davvero questo smartphone. Comunque, il poco spazio dello smartphone è un peccato, non tanto per le applicazioni, quanto appunto principalmente per gli allegati delle applicazioni come WhatsApp. C'è da dire anche che mi sono trovato io, personalmente, che non sono il target giusto o male, perché non c'è la sincronizzazione con Google, non ci sono i servizi Google, non c'è quindi il backup cloud, per esempio, della rubrica. Non mi sono ritrovato la mia rubrica, l'ho dovuta ricreare. In tutto ciò non ci sono le patch di sicurezza, o almeno non esiste proprio il concetto dei patch di sicurezza, perché Android qui è la versione 5.1, quindi l'Hollipop, quando ancora non erano contemplate le patch di sicurezza, quindi una versione Android decisamente, decisamente datata. Poco male, non è che servisse l'ultima release del software, ma comunque è uno smartphone che non godrà di patch di sicurezza. Scorrendo verso sinistra, invece, potete impostare quattro contatti rapidi e questi contatti qua già pensati e modificabili, ovviamente, a piacimento. Andiamo nelle impostazioni per le funzioni aggiuntive pensate per le persone anziane, che sono... Allora, intanto voglio fare vedere che in display, livello di luminosità, non c'è la luminosità automatica. E questo, per me, è veramente un peccato, perché non è un grandissimo schermo, non ve l'ho detto, ma è un 5 pollici TFT 480x960, che gli angoli di visione sono veramente abbastanza terribili. Praticamente, lo inclinate un po' e lo schermo diventa spento, diventa praticamente invisibile. Vabbè, voi lo usate da davanti, ma la luminosità non è automatica e questo avrebbe, secondo me, invece, aiutato un pochino l'utilizzo. Ma vabbè, non è questo il dramma. Avviso di ricarica, tra l'altro la traduzione sfora nel menu. Cosa vuol dire? Voi impostate un menu, un numero, un messaggio e ogni volta che lo smartphone è quasi scarico, vi avviserà con un sms. In questo modo è comodo sapere se, per esempio, non lo so, un genitore, un parente, anziano, si è dimenticato di mettere lo smartphone in carica o magari lo ha messo male. Quando poi andrà in carica, vi manderà un altro messaggio per informarvi che questo è successo. SOS, impostate i contatti di emergenza e il messaggio di invia aiuto e potete scegliere o di chiamare o di inviare un messaggio a queste persone. E se premete il tasto SOS, lui aprirà questo menu, ma se lo tenete premuto, avvierà direttamente la chiamata rapida al numero di emergenza. Ora non c'è, come avete visto, la carta SIM e quindi non lo può fare. Comodo, non comodo? Beh, sì, dai, questa forse è la funzione migliore. Controllo remoto, impostate dei numeri che potranno eseguire alcune funzioni da remoto tramite sms. Quindi se qualche parente fa qualche dramma e voi sapete quali sono i codici da inviare, potete magari cercare di risolvere questo dramma. Selezione rapida sono quei quattro numeri che vi ho fatto vedere nella schermata principale e il resto è sostanzialmente tutto quello che vi aspetterete da un Android stock. Una cosa, una piccola cosa che non mi è piaciuta è che, per esempio, adesso è in vibrazione, ma se io alzo il volume e levo la vibrazione. Ok. Intanto com'è il volume? La vibrazione è debolina, veramente debolina. Il volume è buono, è un po' spacca timpani, non è il più alto forse in assoluto, anche perché è posizionato qua dietro, con gli speaker frontali sarebbe stato sicuramente ancora migliore. Però, insomma, è sufficiente per chi ha magari qualche deficit di udito. Però non è la soluzione definitiva, secondo me. Se per le persone che ci sentono veramente poco potrebbe non bastare neanche questo volume. Il bug che volevo farvi vedere però è che se io tengo premuto in giù, guardate cosa succede, non va in modalità vibrazione. Per andare in modalità vibrazione devo, dopo aver aperto questo menu, scorrere con il dito e andare in vibrazione. Non è forse il modo più comodo, più semplice per entrare in questa modalità. Siamo arrivati quasi alla fine, prima di parlarvi di autonomia, anzi no, vi parlo di autonomia. 2000 mAh, ma la batteria è removibile. Veramente, devo dire che un giorno e mezzo personalmente lo si fa. Poi la ricarica con la base, devo dire che è una buona idea, è una bella idea, comoda. Sinceramente trovo che sia tutto sommato abbastanza commisurato. Preferisco una batteria un pochino più piccola, ma come in questo caso, removibile. E questo era Brondi Amico Smartphone Plus. Uno smartphone che ha un prezzo di 94 euro. Io l'ho preso a 78 euro su Amazon. Diciamo che sicuramente il prezzo è un punto a suo favore. Anche perché, se magari non siete sicuri che questo smartphone faccia al caso vostro o al caso della persona a cui lo volete dare, la spesa comunque non è folla. È comunque un tentativo, tra virgolette, accettabile e che in molti casi si può fare. Non è esageratamente distante dal costo di un telefono normale. Soprattutto quelli per anziani con i tastoni grossi, che hanno comunque dei prezzi non proprio stracciatissimi. Questo prodotto, però, come avete capito, avendo Android, ha dei limiti, secondo me, intrinsechi al fatto che ci siano delle complicazioni in cui si può incappare. Ci siano delle cose che non sono magari proprio chiarissime. Ci sono più tasti che fanno la stessa cosa, delle funzionalità che vanno magari spiegate e rispiegate. Mancano delle opzioni, manca la possibilità di installare qualsiasi applicazione. Anche se credo che, oggettivamente, fra WhatsApp e Skype più o meno si possa, a grandi linee, aver coperto molto di quello che una persona che usa questo smartphone potrebbe voler fare, oltre al browser, magari per leggere qualche notizia. Secondo me questo non è lo smartphone che stavate cercando per una persona veramente anziana che non ha mai usato un prodotto del genere. Questo è, secondo me, una via di mezzo fra chi è veramente anziano. E probabilmente, diciamocelo, è meglio che continui a usare uno smartphone o comunque un telefono con i tasti. Non perché debba usarlo, ma perché, sinceramente, anche per esperienza personale, certe complicazioni così possono, tra virgolette, peggiorare la vita. Certo, il prezzo è contenuto, potete anche testare. Questo, comunque, secondo me, è una via di mezzo. Cioè, per chi, magari, è stanco di uno smartphone troppo complesso da usare, con le scritte troppo piccole, ha bisogno di una garanzia, di un tasto SOS, gli fa comunque comodo avere una basetta di ricarica piuttosto che il solito connettore che poi si sciupa. Ecco, secondo me questa è un po' una via di mezzo. Ci sono delle categorie, magari, che ha qualche problema di udito, qualche problema di vista, senza però essere esageratamente in là con gli anni. Poi, ovviamente, diciamocelo, non voglio essere io a limitare, a dire chi può o non può riuscire a usare questo smartphone. Qui bisogna un po' semplicemente essere onesti e capire le capacità, non tanto di informatica, ma appunto di cultura digitale, tra virgolette, quanto la persona è predisposta all'utilizzo del touch. Insomma, sono tutte cose che io vi esorto a ragionare prima di acquistare uno smartphone, perché spesso non basta. Che il prodotto abbia delle icone grandi e che abbia un suono forte. Se pensate che queste cose però possono bastare, potrebbe essere una soluzione. Ma tenete anche sempre a mente che se sapete un pochino come fare, potete raggiungere un risultato abbastanza simile, anche con un vecchio smartphone e con un launcher dedicato. Spero di avervi dato un po' un'infarinatura, un'idea, degli spunti di riflessione per capire se questo dispositivo può andare bene per voi o per chi pensavate che potesse essere il target di questo dispositivo. Per questa recensione di Brondi Amico Smartphone Plus è tutto. Un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it